A pochi minuti dall'episodio che ha visto crollare pezzi di cornicione, per fortuna senza coinvolgere i passanti, siamo qui con uno dei residenti e la situazione non è grave solo per questo cornicione. Qual è il problema generale? Il problema generale è questo qui, ogni 4-5 anni loro cercano di dare una rattoppata, ma insomma è una cosa non definitiva. Per solucirle a ladere e a fare un lavoro quantomeno un po' più resistente perché così non può andare. Ogni volta abbiamo un problema grande che come vedi i pilastri sono tutti scoppiati, non è solamente il fatto dei cornicioni. La messa in sicurezza vuol dire anche i pilastri che è una struttura talmente vecchia questa qui che purtroppo bisogna avere delle manutenzioni annuali, quantomeno almeno annuali. Le strutture sono da mettere in sicurezza una volta per tutte. Un punto è che non si vive più nella casa popolare perché purtroppo i giovani cascano i barconi, poi se lamentano che non hanno affitto, fanno bene che non pagano a questo punto. A questo punto fanno bene. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS